Ma buongiorno ragazze, allora oggi, allora innanzitutto mi dispiace che ultimamente non sono stata tanto presente ma sono stata fuori in vacanza e quindi insomma mi è stato un po' impossibile fare video, come si può immaginare però ho qui miliardi di buste dei miei ultimi acquisti che ho fatto lì a Dublino sono stata e se volete vedere il video in cui vi mostro quello che ho comprato, fatemelo sapere giù perché è inutile che faccio un video che non vi interessa che schifo, che me ne frega eccetera eccetera, quindi ditemi prima se vi interessa, se vi interessa ve lo faccio vi faccio vedere qua un po' di bustine, tutto quello che ho comprato, altrimenti non lo faccio per niente comunque come state? Allora io bene, anzi così così, non è che mi sono tanto rilassata diciamo così in vacanza è stata abbastanza stressante, poi per non parlare del clima lì, oh mio dio lasciamo proprio perdere troppo 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 freddo almeno per me che sono fatta in modo strano e appena c'è un po' di vento e qualcosa soffro allora, torniamo al video di oggi allora, nel video di oggi voglio parlarvi della mia esperienza con il sito firmo, firmo, non lo so ragazzi come si legge, penso sia cinese, firmo, firmo, non lo so ed è un video in collaborazione con questo sito, vi spiego proprio tutto quello che è successo dalla prima email ad oggi oddio, complicato ho segnato qui un po' di cose per non dimenticare niente quindi non è che sto leggendo sto vedendo un po' qualcosa che ho scritto così per ricordarmi tutto allora, il 18 maggio mi ha contattato questa azienda e dicendomi, ciao Marta vuoi collaborare con noi? siamo un gruppo che vende occhiali da vista, da sole, qualsiasi tipo di occhiale noi ti mandiamo un paio di questi occhiali e poi ti fai sapere tu in un video come ti sei trovata, eccetera, eccetera e allora ho detto, va bene, ok, perché no ho accettato e il 22 circa li ho ordinati e dopo 9 o 10 giorni precisi sono arrivati a casa il 31, il 31 maggio sono arrivati qui allora, con il corriere io qua davanti ho il sito, ok, per parlarvi un po' meglio allora io ho scelto i miei occhiali, ok allora questi sono, diciamo, quelli che uso più spesso e che mi piacciono di più che ho comprato così dall'ottica non c'entra niente con firmo e questi occhiali qua pagati tanto ovviamente loro mi hanno suggerito di acquistare da loro cioè acquistare un paio di occhiali che avessero una forma simile a quelli che già avevo io ho aperto il sito e potevo filtrare la mia ricerca vabbè che ci sono miliardi di tantissimi tantissimi modelli e tutti veramente belli sia da bambina che da donna da uomo, tutti i tipi da vista, da sole, insomma, tutti i tipi potete filtrare la ricerca ad esempio in base al colore in base alla grandezza degli occhiali che voi misurate col centimetro in base al genere se li volete da donna insomma, tutto quanto io ho scelto questi qui innanzitutto, vabbè, mi sono arrivati in questa custodia rigida veramente bella e questo qui è il modello che ho scelto io allora, mi pare che fosse arrivata anche in una custodia con una custodia morbida qui cioè, questa custodia dura era dentro una morbida però vabbè, non so più dov'è e con la pezzetta per pulire ok eccola firmo era tutto dentro qui e questo aveva dentro anche un set di giravitini così per le viti insomma, molto carino e questo qui è il tipo che ho scelto io ovviamente rosa che fantasia e questo è il tipo di occhiale che ho scelto oddio, oddio allora ragazzi fatemi sapere veramente se sono belli se sono brutti non lo so a me piacciono abbastanza allora, una cosa fighissima ragazzi, qual è? che io ho scelto questi occhiali qua graduati sì, è una cosa molto strana ovviamente voi potete prenderli anche non graduati ma io ovviamente li ho presi così perché mi servono graduati non sono per bellezza allora sapete come ho fatto io? ora ve lo spiego allora, quando io ho selezionato tutto ho scelto il colore ho scelto tutto quanto che comunque è tutto molto semplice nel sito si capisce benissimo come fare e si può anche misurare qui la lunghezza la differenza come cavolo si dice la misura di questa parte qui dell'asta della lente della lente tutto quanto si può scegliere anche poi quando scegliete il vostro tipo di occhiale sotto ci sono tutte le misure quindi diciamo che è difficile sbagliarsi ecco, diciamo così e come ho fatto io ho selezionato i miei occhiali e ho inserito la gradazione dei miei occhiali tramite in pratica legando una foto dove mi diceva di inserirla e ho inserito questa immagine qui ho fatto una foto con il cellulare e l'ho inviata ragazzi è veramente facilissimo dove qui mi diceva tutta quanta la mia gradazione questa è la distanza pupillare mi pare che è importante perché altrimenti non posso inviarvi gli occhiali e se voi avete questa cosa qui fatevela fare dall'ottico e non vi dimenticate di farvi scrivere la distanza pupillare qui a me è il 60 e niente ho inviato questo ragazzi è stato facilissimo mi sono arrivati questi occhiali allora io vi devo dire la verità ero un po' scettica e non lo so pensavo che comunque non sarebbero stati uguali almeno per quanto riguarda la gradazione identici a quelli che avevo già e non lo so pensavo sì vabbè saranno belli così carini ma sicuramente ci saranno delle differenze insomma anche perché i prezzi di questi occhiali sono veramente bassissimi cioè a me perché questi me li hanno inviati ma credo che comunque 30-40 euro comunque pochissimo sarebbero costati quindi non lo so ero un po' scettica vi dico la verità e ah poi è divertente perché potete caricare una vostra foto nel sito e mettere gli occhiali sopra la faccia per vedere come vi stanno però vabbè è un po' una cavolata perché ad esempio questi visti in quel modo erano più piccoli vabbè ti dà solo un'idea così una specie di giochino e ragazzi io che vi devo dire il momento in cui sono arrivati sono veramente rimasta molto molto sorpresa di questi occhiali cioè sono veramente di alta qualità ma non sto scherzando nessuno mi ha detto di dire che nessuno mi ha detto di parlare bene di questi occhiali io vi sto dicendo la mia opinione semplice e sincera come sempre io con questi occhiali presi dall'ottica e con questi qui vedo nello stesso identico modo ragazzi veramente è una cosa allucinante e la gradazione è veramente identica identica vedo perfettamente su questo ero un po' scettica vi dico la verità pensavo vabbè sì mi piaceranno sarà bello il modello e tutto quanto che poi vi lascio giù il modello se lo volete vedere e sarà carino il modello però non lo so sicuramente con quelli dell'ottica vedrò meglio sicuramente invece ragazzi sono identici vi devo dire la verità secondo me questi occhiali qui sono buoni ottimi come secondi occhiali ok io vi dico la mia la mia opinione come secondi ad esempio io credo che ora ne acquisterò davvero un altro tipo perché per quanto riguarda gli occhiali da sole io ho quelli che ho comprato all'ottica e sinceramente costo da 200 euro ad esempio per andare al mare non me li porterei mai però sinceramente un tipo così più economico il porterei volentieri e quindi come secondo occhiale da portare al mare credo che ne acquisterò un altro oppure da vista l'unica cosa insomma che non mi piace molto di questo sito ma ovviamente deve essere così per forza è che non posso vedere il prodotto prima di comprarlo ecco questo un po' non mi piace soprattutto per quanto riguarda gli occhiali che solo mettendoteli riesci a capire veramente se ti piacciono oppure no perché magari vedendo cioè vedendoli e indossandoli è tutta un'altra cosa questa è stata la mia esperienza sono veramente occhiali ottimi vi consiglio di acquistarli su questo sito assolutamente sì anche perché i prezzi sono veramente molto molto economici ragazzi 30 euro cioè un paio di occhiali da vista chi ve li dà e poi vedo i denti vedete veramente in modo identico a questi occhiali qua 40 euro un paio di occhiali da vista rispetto a 200 capite la cosa figa è appunto che potete prenderli graduati ok e quindi potete proprio avere degli occhiali personalizzati quello è assolutamente figo mi piace i modelli sono tantissimi lo sto vedendo qui nel sito tantissimi tantissimi modelli vi lascio giù giù il sito il link del sito firmo e vi lascio anche il link diretto al mio paio di occhiali che come potete vedere sono rosa ragazzi non so se voi li avete visti bene sono così su rosa veramente belli e c'erano anche qui trasparenti comunque molto carini fatti veramente anche molto bene cioè nessuno direbbe ragazzi ve lo giuro nessuno direbbe che costano 30 euro questi occhiali o comunque molto poco allora ragazzi io che vi devo dire che c'è un'offerta in questo periodo veramente fantastica che infatti già i miei genitori hanno detto che vogliono comprare non lo so perché è una cosa veramente bella ora vi spiego in pratica in questo periodo se voi acquistate un paio di occhiale giù nel sito ne avrete uno in omaggio cioè scapite veramente bello infatti loro vogliono acquistarne un paio la mia amica pure vuole acquistarne un paio insieme a me che ne voglia un altro insomma raga veramente io vi consiglio di provarlo di provare questo sito perché fa paura mi piace tantissimo e sotto qua io vi lascio tutto se ne comprate uno ne avrete un altro gratis anche graduato esatto anche graduato poi vi lascio anche giù il sito l'email diretta per parlare con con l'assistente del sito insomma che vi può rispondere se volete mandare email per avere informazioni e quindi per ricapitolare tutto vi lascio giù il link del sito generico il link del sito diretto al mio paio d'occhiale poi vi lascio il link diretto a questa offerta e poi vi lascio giù l'email per contattare l'assistenza quindi niente ragazzi più di questo non posso dirvi e vi dico solo che la mia esperienza è stata super 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 positiva mi piace tantissimo veramente di alta qualità e sinceramente per un prezzo così basso credo che ne valga veramente la pena provare ecco tutto qui quindi niente questa è stata la mia esperienza grazie al sito per avermi dato la possibilità di provare questo paio di occhiali e quindi niente fatemi sapere giù se vi piacciono quegli occhiali se sono più belli quelli o questi che ho adesso e niente tutto quanto quello che volete fatemelo sapere giù se volete informazioni riguardo al sito che volete acquistare ma avete difficoltà e non riuscite fatemi sapere tutto giù che poi io vi posso aiutare senza dubbio ciao ragazzi grazie mille